e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi ripercorreremo insieme ovviamente a sommi capi se no è impossibile le origini di resident evil titolo che ha condotto alla grandezza il survival horror scrivendo un indimenticabile terrificante pagina di storia videoludica e diciamo soprattutto quella di sony e il primo resident evil videoluce nel lontano 1996 creato da shinji mikami e tokuro fujiwara perdonate la pronuncia di questi nomi che non la so ovviamente il primo capitolo della serie uscì come detto appunto nel 1996 ma lo sviluppo iniziò nel 1993 gli sviluppatori presero spunto da sweet home un gioco con impostazione metalvania uscito su ness nel 1989 e creato proprio dalla mente appunto dei di in verità di fujiwara e tratto a sua volta dal cult da sala giochi ghost and goblins il nome resident evil fu scelto per ragioni regali problemi di copyright negli usa dove sarebbe stato complicato registrare il nome per via di un gioco uscito su dos in precedenza quindi resident evil fu chiamato quindi resident evil anche perché si svolgeva all'interno di una villa che sarebbe diventata molto famosa e familiare ovvero villa spencer il gioco subì altre censure perché ritenuto troppo cruento per il mercato occidentale è reso anche più difficile rimuovendo le interconnessioni tra i bauli e fu disattivata anche l'automira che c'era ovviamente se non mi sbaglio nella versione giapponese nel primo storico capitolo primo a livello ovviamente cronologico non propriamente di eventi abbiamo conosciuto personaggi come chris redfield barry gil valentine e il famoso gruppo stars diciamo che tra tutti è il mio preferito ed è il primo che ho giocato avevo ragazzi circa otto anni quando l'ho avviato per la prima volta e rimasi ovviamente terrorizzato dalle atmosfere dagli zombie diciamo ragazzi quando ero piccolo non eravamo tutti così abituati a certi giochi è diverso diciamo che un bambino un bambino un ragazzino di parietà oggi forse nemmeno si scomporrebbe più di tanto vedendo il gioco ma vi giuro ragazzi a quell'epoca la scena iniziale dove ci sta lo zombie no che praticamente si alza e ti guarda non so se insomma ce l'avete presente beh mi ha terrorizzato per anni mi ha quasi traumatizzato e terminai il gioco all'età di 12 anni quindi per un po di tempo lo lasciai lì dove stava il sequel di resident evil che era noto come resident evil 1.5 invece fu cancellato a pochi mesi dal lancio programmato per maggio 1997 e nonostante fosse già stato presentato al pubblico in precedenza capcom resettò l'intero progetto sviluppando da capo la storia e il gameplay che poi avrebbe dato vita all'avventura di leons kennedy e di claire redfield un capolavoro assoluto riapprezzato e di nuovo insomma riapprezzato un'altra volta scusate la ripetizione grazie al remake uscito nel 2019 resident evil 2 ragazzi credo che sia tra i più belli appunto e apprezzati un'altra volta dai videogiocatori ricordiamo anche il magnifico resident evil 0 che è prequel del primo capitolo outbreak cod veronica capitolo un pochino diciamo snobbato e controverso dopo l'uscita del secondo capitolo però capcom decide di svilupparne un terzo il celebre resident evil 3 che prese una piega più action e generò un pochino di dubbi e scetticismo anch'io onestamente vi dico all'inizio non avevo gradito molto questa scelta la chicca comunque di questo capitolo era il celebre nemesis un gigantesco tyrant che ha il compito di inseguire e uccidere i membri della stars veloce e letale quasi indistruttibile braccherà la nostra gill per tutto il gioco e siamo nel 1999 esiste di questo capitolo un remake che vi devo dire ragazzi non mi è piaciuto per niente però va bene sono gusti qualche anno dopo nel 2005 intanto tra 2001 e 2002 uscirono cod veronica e il sopracitato resident evil 0 beh fu la volta di resident evil 4 sulla scia un pochino del terzo capitolo capcom decide di rivedere completamente la struttura del gioco fu definito eccessivamente action lontano dai canoni della saga e qui insomma ritroviamo lyon sopravvissuto al disastro di raccon city che deve salvare ashley graham giovane figlia del presidente degli stati uniti scomparsa il titolo è ambientato in un villaggio poco noto isolato insomma nel nord della spagna di mezzo ci sta un parassita la splagas eccetera il titolo è finito poi per diventare uno dei più apprezzati della saga tanto che capcom gli ha dedicato anche un remake ultimamente e ragazzi come non dimenticare anche la mitica ada wong tra 2009 e 2012 sono usciti resident evil 5 e resident evil 6 allora per quanto riguarda il quinto si muoveva più o meno sulla scia del quarto capitolo come impostazione ed era ancora a dispetto insomma delle molte critiche mosse una delle quali riguardò anche i nemici immaginate che il titolo era ambientato in africa sempre con questo retroscena dei parassiti la splagas e quant'altro insomma ci trovavamo in pratica a uccidere trucidare barbaramente persone di colore e questa cosa non piacque molto ma rimane un capitolo non eccelso diciamo gradevole il peggio è arrivato e lo hanno raggiunto con resident evil 6 veramente uno dei più brutti e questo ragazzi non è soltanto un parere mio ma un parere diffuso però ci sono persone che invece dicono beh non è male io non l'ho gradito c'è un titolo abbastanza sciapo che non rende onore al brand un guazzabuglio di storie di personaggi che si incrociano boh non mi è piaciuto ed era veramente troppo però troppo action cioè se già nel quarto e nel quinto un minimo di tensione insomma ancora la percepivi qui essendo il gioco con cioè avendo il gioco ragazzi un ritmo veramente troppo incalzante sembrava quasi di giocare a code ok cioè non mi ha convinto molto oggettivamente parallelamente sono usciti anche resident evil revelation e revelation 2 non mi hanno entusiasmato molto vi dico la verità ma insomma ve li ho citati lo stesso di questi che sono recenti non vi dico molto se no cioè vi faccio troppi spoiler se volete giocarli nel 2017 esce invece resident evil 7 e nel 2021 esce resident evil village che hanno riportato il brand agli antichi fasti veramente due titoli notevoli da ogni punto di vista onestamente ho gradito entrambi ed è anche difficile dire quello che mi è piaciuto di più forse village che secondo me è comunque l'apice ma diciamo anche su questo evito di farvi spoiler se qualcuno di voi appunto non l'ha giocato e sono bellissimi anche i dlc di questi due giochi insomma giocate li ragazzi meritano davvero allora non li ho nominati forse tutti ma ci tenevo a ricordare i principali insomma spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia sbloccato un ricordo e un ricordo magari piacevole a me insomma riparlarne mi emoziona sempre per i più giovani magari vi ho dato anche qualche stimolo insomma a giocare questa saga che non si ferma come vedete solo agli ultimi capitoli ma ha veramente un vissuto importante chi lo avrebbe detto ragazzi dal 1996 al 2024 barra quasi 2025 ancora risentivo sta qui ed è ancora vivo ragazzi c'è tanta roba veramente tanta roba comunque detto questo ragazzi il video finisce qui come al solito vi invito iscrivervi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanella delle notifiche non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che presto saremo live anche su tiktok per sapere quando siamo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ahhh che bella visciata che bella ahhh che bella ahhh che bella ahhh che bella